Oggi è la giornata Bim Bim Bici e noi abbiamo coniato uno slogan che è più bici in città più sicurezza per tutti perché è dimostrato che con l'aumento delle biciclette aumenta anche la sicurezza per tutti gli utenti della strada C'è una cara, uccurro, rebela, schalovena, i niente glezne, sukarke, rena, braho, ne dva, popre, kanamera, odote, komedui, presi, chancate, kelam Gas, 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 gas In tutta Italia è una giornata dedicata all'uso della bicicletta, si fanno iniziative diverse dedicate alla bicicletta noi a Meleniano ovviamente come da diversi anni ormai lo dedichiamo ai bambini in bicicletta e quest'anno per la prima volta abbiamo fatto una biciclettata all'interno della città mentre gli altri anni uscivamo da Meleniano, quest'anno siamo rimasti dentro Meleniano per conoscere un po' la città e i percorsi che possono arrivare alle diverse scuole di Meleniano Con questa multa, così è una multa un po' giocosa vogliamo richiamare l'attenzione delle persone che parcheggiano purtroppo sempre in malo modo o comunque spesso in malo modo, voi sulla ciclabile, sui marciapiedi oppure addirittura fuori dalle strisce in strada bloccando anche il traffico questo è un modo per ricordare alle persone che non si parcheggia così di fatti c'è scritto egregio signore, gentile signora, lei ha parcheggiato malissimo quindi si merita una multa di 100 euro e poi sotto i bambini hanno scritto i bambini e le bambine di Meleniano sono stupide gli automobilisti che non rispettano le regole perché certe volte con alcune biciclette si può fare delle acrobazie, tipo l'impennata si va più veloci in bicicletta pedali e fai qualcosa che ti piace, in casa ne fai un benissimo insomma è bello andare in bicicletta se è accirita